buongiorno web amici benvenuti a un altro video accreditario oggi moto finita ebro bravo come vedete qua bravo gl e per un cliente che adesso parte vado portarla a bergamo ma ho fatto delle modifiche prima modifica diciamo quella più importante che ho voluto è il caricatore interno perché così ragazzi con il caricatore interno la vita diventa molto molto più facile non dobbiamo portarci dietro nello zainetto insomma o se mettiamo bavolette una rotta di scatto è una roba grande così e tutte le volte veramente è un incubo ma vi faccio vedere io apro qui e ho messo la manekes tipo 2 vado a prendere il mio attacco della wallbox e vediamo come funziona eccolo qua vado a inserirlo e come sentite avete sentito un clac vuol dire che è partito fra poco la ventola partirà e con la ventola partita la moto sta caricando si stacca normale poi riparte perché in base anche alla temperatura ovviamente poi si staccherà attaccherà in base a quanto caldo o freddo fa ok ragazzi un caricatore interno da 30 ampere questa moto è una moto con una batteria da 100 ampere e una moto 5 kilowatt di potenza sulla ruota posteriore avete già visto dei video a riguardo di questa moto quindi andate a vederli che hanno fatti già anche su un altro modello sempre della e pro autonomia abbastanza discreta per il prezzo che ha perché 100 ampere di batterie ci permette di fare in tranquillità vuol dire andando a 90 all'ora senza problemi in moto che fa 120 km orari comunque andando a 90 all'ora circa facciamo un 110 120 km ovviamente pianura e un peso di 70 kg con una temperatura di 25 gradi ma comunque sia ci permette di superare tranquillamente i 100 chilometri di distanza con una ricarica con questo caricatore da 30 ampere ragazzi andiamo a caricarla in poco più di tre ore e ovviamente la vita è molto più semplificata ma possiamo collegarla anche alle colonnine adesso ci sono delle colonnine provviste di cavo così come vedete come questo arriviamo alla nostra colonnina paff gliela fecchiamo dentro e non ci pensiamo più questa è la modifica più importante esteticamente è rimasta invariata non ho voluto grosse modifiche quindi questa mancano le barre che arriveranno e che la belliscono un po' ma un'altra modifica che ho fatto che consiglio quando si acquista questa moto perché la maggior parte di moto diciamo così cinesi usano questa teoria che quando si frena va ad disabilitare l'acceleratore quindi noi freniamo se acceleriamo la moto non non parte questo disabilitato in modo che quando noi acceleriamo in ogni caso il motore va soprattutto se ci frena magari in salita e magari acceleriamo che magari abbiamo un po' di freno lei non va quindi devi lasciare si va un po' indietro e poi va su invece in questo modo se noi teniamo frenuto magari un po' davanti acceleriamo sentiamo il motore che parte e quindi poi lasciamo il freno questa moto anche la retromarcia ve lo dico perché se non la avete mai vista è una moto con 5.300 5.400 euro più o meno ve la portate via tranquillamente chiave in mano già targata con l'eco bonus del 30 per cento già compreso se avete da rotta mare costa ancora meno e devo dire che qualità prezzo è una moto diciamo che in questo momento una delle migliori a parere mio è anche comodo in due un'altra modifica fatto che minutemente adesso dietro ha voluto un copertone da 180 normalmente monta 140 ok e si vede la differenza è più grande ok ragazzi devo dire vi ho detto tutto a me piace piace quindi anche normale non modificata devo dire che che ci sta ok se avete bisogno di un ebro chiamateli quindi faccio il prezzo e se siete nei paraggi ve la porto anche a casa se no nessun problema spedizione con 150 euro 180 euro dipende dove siete ve la portano a casa senza problemi ci vediamo al prossimo video decrendario ciao